Siamo giunti alla quarta edizione del concorso Canoro Note d'Oro con immensa gioia che anche quest'anno siamo qua a presentarvi questo immesso concorso Canoro che abbiamo 16 partecipanti che arrivano un po' da tutte le parti quindi siamo veramente soddisfatti ma una delle gioie più immense è quella che avremo qua tantissimi bambini dalle scuole elementari e quindi faccio veramente un ringraziamento proprio forte, forte, cioè grande a tutte le maestre che si sono adoperate a insegnare la canzone che canteranno qua sul palco che ci faranno d'apertura a questa splendida manifestazione è una tradizione che va avanti da tempo qua Valperga come concorso Canoro quindi speriamo che continuiamo ad andare avanti per più anni possibili sono veramente contento di avere qua a mio fianco Fausto Revello di avere Marco Verdoliva che quest'anno è un nuovo presentatore con noi, grazie la ormai già veterana di questo palco Jessica Cavallo, giusto e poi la dottoressa Laura D'Alessandro che veramente mi ha sostenuto tutto questo periodo di organizzazione e devo dirgli veramente grazie a lei e a tutto lo staff della Proloco Valperga Belmonte perché se riusciamo a fare questa manifestazione non è solo un merito mio ma il merito veramente di tutti quelli che con ogni suo tempo prezioso che dedicano a Valperga questa associazione riusciamo a fare questo quindi in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un grazie veramente di cuore a tutti quelli che vengono ad ascoltare e che partecipano. Un ringraziamento va anche all'amministrazione comunale per il patrocinio e di aver concesso la possibilità di farlo qua nel teatro comunale noi ci vuole piore, ci vuole piore, ci vuole piore, ci vuole piore Grazie a tutti.